Una conferenza stampa lunga e travagliata, quella che si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 16 giugno in municipio Ferrara, per la presentazione dei taccini del pittore ferrarese settecentesco Giuseppe Ghedini, disegni che illustrano l'opera borlesca in trenta canti di Nicolo Forteguerri, il ricerdetto di cui si era persa traccia, come alcuni sapranno, per aver seguito la polemica dei mesi scorsi, fino a quando gli amici delle biblioteche rostee e altre associazioni culturali ferrarese ne hanno scoperto la presenza presso un noto e affermato antiquario milanese. Da quel momento è iniziato il dialogo tra associazioni culturali e assessorato alla cultura del comune di Ferrara, nella persona dell'assessore Marco Guglinelli, per riuscire a riportare alla biblioteca Rostea, alla quale il pittore Ghedini aveva lasciato per volontà testamentare i suoi taccini, la piccola raccolta di disegni scomparsi, non si sa come, dalla biblioteca e riapparsi in città nel 1970 in occasione di una mostra sul settecento ferrarese. Dei taccini in quell'occasione parlò Eugenio Riccomini, che li vide esposti come proprietà di un collezionista ferrarese non identificato. La storia dei taccini in questi due secoli è piena di alti e bassi e di punti oscuri, che non sono mancati anche in quest'ultima fase, in cui, per farla breve, la volontà delle associazioni di restituire i taccini alla biblioteca Rostea chiedendo al comune di acquistare per la somma di 20.000 euro che è stata dall'antiquario, si è scontrata, dopo un dialogo iniziale, con l'impossibilità dichiarata dall'assessore Guglinelli di poter sostenere, a nome di un'amministrazione pubblica, una trattativa privata con l'antiquario, imprenditore privato. Trovarmi in una fase in cui la situazione era già poco chiara dall'inizio, in cui io avrei dovuto prendere in mano il telefono e trattare con un antiquario privato, una cosa che secondo me non può fare, e non l'ho fatto. Sto cercando anche poi altre situazioni di equilibrio che hanno portato al risultato dei disegni oggi presentati alla città di Farno. La vicenda si è risolta dopo un lungo carteggio e alcuni silenzi, con l'acquisto dei taccini da parte della Fondazione Cavallini Sgarbi, che come a più riprese ha dichiarato in conferenza stampa oggi Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Cavallini Sgarbi, ma presidente e anche della Fondazione Cittadina Ferrara Arte, verranno resi fruibili dalla città e dai turisti a Palazzo Schifanoia, dove troveranno posto nell'esposizione permanente in fase di allestimento nel palazzo recentemente restaurato. C'è una stanza in cui c'è un dipinto di Ghedini, un San Giovanni Battista, c'è una parete vuota in cui è già predestinato che a settembre, con tutto il dolore del dottor Varese e degli altri che ce l'hanno con me, l'opera torni a Ferrara. A questo punto la conferenza stampa a cui erano stati ammessi i rappresentanti delle associazioni culturali a cui è stata data la parola, dopo un tentativo di chiarimenti reciproci, si è trasformata in uno scontro violento, soprattutto nel linguaggio. Cosa succederà, ci chiediamo adesso dei taccini. Saranno esposte schifanoia, come è stato detto in conferenza stampa, ed è volontario della Fondazione Cavallini Sgarbi del Comune di Ferrara, con cui Vittorio Sgarbi ha fatto una convenzione su base totalmente gratuita? Oppure ci sarà la possibilità, come ha ventilato lo stesso Vittorio Sgarbi, che la questione possa essere azzerata e che tocchi all'associazione culturale di interpellare la sua intendenza, come avrebbero dovuto fare fin dall'inizio, o chi di dovere della vicenda, della scomparsa dei taccini da un'istituzione pubblica ferrarese, la biblioteca e della successiva riapparizione a Milano presso un antiquario e quindi un privato.